Bella Fanny, bentornati with Lello and Baxter, ma scusa io faccio sta domanda, ma Willy il principio di Belè? Ragazzi siamo tornati incredibilmente, fosforescentemente, tutto buio, siamo al buio della notte, al ritmo della notte, al buio 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 della notte, comunque siamo tornati su il draft di FIFA, il draft Fanny, perché questo che è il nostro, abbiamo facciato di più degli altri, noi siamo feche, cioè c'è mica la roba dà, vi porteremo un altro draft, quindi due nuove squadre, una sua e una mia, e poi giochiamo, e sarà una rivincita del draft scorso, quindi Lello, perché come avete visto, Baxter è, come al suo solito, no non è vero, Baxter comunque ha vinto, due a zero, e io ho preso palo, e l'ho preso palo, quindi ragazzi partiremo, vai, però, visto che la tua volta sono partito io, stavolta parto io, allora, vai, non ho fatto niente, start, draft, devo dare il braccialetto, in the memphis, in the wankies, in the flauties, eh sì, sto sa, oh ma non mi, non mi cabbaro, ragazzi, 20 mi piace sotto questo video per un'altra puntata, non c'è incredibile, allora, cambia la forma, il modulo, modulo, va a 4-3-3 adesso, in 4-4-ferra, ferra, vai, choose formation, il capitano mio, sarà, oh però Lello, c'è delle belle scelte, c'è, fanno tante buoriche proprio, anzi ho dei problemi, parto col portiere, Neuer, Neuer, capitano Neuer signori, quindi parti con una tedesca Bundesliga, esatto, adesso vediamo cosa costruire e poi ci vediamo, bella, eccoci qua tornati, allora ragazzi, la formazione è quello che è in realtà, però è una simile Bundesliga barra tedeschi, comunque, gente ha a che fare con la Germania, con qualche infiltrato, con qualche infiltrato che arriva dall'Inghilterra, sì, dall'Inghilterra, quindi De Bruyne, William, Coleman, e? Basta gli inglesi, no? Basta, ma tutti gli altri sono tedeschi, cioè, comunque, adesso tocca Baxter, è una buona squadra, perché comunque ha 82 di rate, è soltanto l'intesa che va e fa un po' cacare, ma abbiamo visto che in FIFA l'intesa non serve a niente, cazzo, esatto, comunque, tocca la foto, faccio la foto, faccio la foto così non mi dimentico, fa la foto che poi, stiamo qua, dobbiamo costruire e non costruiamo, ok ragazzi, eccomi, eh, finalized world of streams, fai fare, facciogli subito star new, fai star new, fai farlo subito, allora, lo schema, già il modulo me darà fastidio, oh, c'ho il 433, il mio preferito, ci sfidiamo 433 contro 433, no, io mi sa che faccio un 4-1-4, no, scherzavo, ragazzi, io devo prendere il 4-4-2, perché è classico lui, perché almeno, cambiamo un po' e non facciamo un 4-3 delle balle, eeeh, qua già, qua già, mi dimentico, vai, ma perché i miei capitani sono sempre degli sfigati, però, però, c'è un però, eh, dai, visto che sono corretto, io scelgo Agüero, ragazzi, butto via Ronaldo e Ibra così, e prendo Agüero, perché non mi interessa, eccoci ragazzi, ho trovato una simile roba, che è una, buono, è una, qualcosa, un'argentina, che ha a che fare però con la Francia, ma anche con la Spagna e il Brasile, diciamo che c'è quasi tutto, perché c'è Biglia che gioca in Serie A, Di Maria che gioca in Ligan, c'è un pezzo di spagnolo, Billy Luis e David Luis, che sono brasiliani, ma francese e Spagna, Francia e Spagna, tutto un bug, De Bae, De Bae, De Bae, che olandese, che olandese, United, Shaqiri, Svizzero, che gioca nello Stoke, però ragazzi, guardate quanto ho voluto Benadello e non sceglie Ronaldo, quindi, tanto guarda, con quelli che ci sono usciti, e infatti, ragazzi, adesso io farò una foto e ci vediamo dopo con le squadre pronte a sfidarsi, Bella Fanny, eccoci tornati con le squadre, fatte, fatte, ci abbiamo messo una vita, un'ora, mezza proprio, è stato lungo e faticoso, ma ce l'abbiamo fatta e siamo pronti per portarvi una fantastica partita, però ragazzi, come lo so solito, facciamo come i telecronisti, la squadra di livello, il Antafagosta, il capitano, il numero uno, in porta, Manuel Neuer, c'è i trani di difesa, col numero, non lo so, Socrates, Janske, terzino destro, Gary Coleman, Terzino sinistro, Riccardo, Rodriguez, poi a centro campo, Ilkai, Contogran, e poi, Shinji, Kakawa, Kevin, De Bruy, e davanti, alla sinistra, fuori posizione, c'è lui, Uttara, non ricordavo il nome, Uttara, centrale, no, prima è centrale, esterno, attacco, cioè, alla destra, Eric William, 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 centrale d'attacco, Bast, 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 poi, andiamo per la squadra di Baxer, il, non mi ricordo, il, italiano, qualcosa, non mi ricordo più indissori tutto Vittor difesa da Medruigi Laporte Dani Alves Felipe Luis Manuel Depay Memphis Xternan Oxerdan ha giocato anche nell'Inter ma non l'ho mai saputo pronunciare quindi lascio perdere chi se ne verrà Luca Spiglia Anche il Di Maria Carlito Stevens e Serginio Aguerrino quindi ragazzi andiamo e come l'altra volta chi comunque verrà vissuta vinca il migliore e quanti like vogliamo anche a sto giro? 20 sempre eccoci vai vai spacchiamoli io volevo trovare Gege ah Gege Brist già Gege ragazzi proprio lui ma non si trova vai uuuuuh sbagliato guarda Davide Luigi mamma mia nooo questo passaggio così in orizzontale pericoloso eccolo Luca mi piace questa argentina fatta così ah mia Carlos Carlito madonna cosa farà noieee vado qua tempo che mandano un messaggio dal cervello alle gambe guarda faccio tempo a inviare un pacchetto a un corpo Carlos 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 dai madonna ma noieee non passa niente eh beh oh ma abbiamo finito di giocare tutti ma Agüero nooo mi mi sta deprimendo mi sta uccidendo moralmente sta partita mi mi sei il nome di un aspirapolvere vai a rimetterle centralina alle macchine che inquinano De Deutsch di Maria di Maria no no dai 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 e poi Dost il risveglio della porta oddio no il risveglio della porta il risveglio della porta ma non è possibile il giocatore più scalzo che ha giocato questa partita dai non è possibile no Dost l'abbiamo detto che tu sei un diesel e sei un tedesco vedi sei una 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 devi scaldare eh ma gioca lì devi scaldare il motore ma quando lo scaldi è fioli miei dai nooo che tiro di merda cos'era quel colpo da bigliardo dai Carlitos Carlitos non ci credo un altro attraverso ho preso un altro attraverso ma quanto culo mi sta dicendo madonna madonna oh eh arbitro è spulgino via via fuori fuori dalle palle via via non ne ha neanche da giallo no è vero davvero eh sei proprio un tedesco vai dai no ieri sei stato nero da tutta una parte ma io ho un mancino devo vedere ho un mancino si ho shakiri ah beh siamo al box ragazzi olè marleni c'è 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 tantissimo l'erro che partite ragazzi ui fatti voti di pittà non sembra che li esi ma perchè per il corsa devo sapere una cosa prontò dost torno tra noi no 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 MAI DOST uffu vero o male che victor c'è non l'ha mai presa appunto non l'ha schiacciato di maria madonna ma che chi lo è muoio MAI NO 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 nissà cosco i i i i ti di me che rimasta di ma ma come c non posso di giocare con te addio muoio è il bug di fifa questo senti Dost torna tra noi mamma mia mamma mia che è paccala il silenzio per Lello spareggiano con lo script me lo sento vai si io quando guarderò questo video col mio profilo metterò un dislike a Noyer con il commento sotto e voi vedrete che quando uscirà non è una scrontata vedrete che sarà il mio commento privato in cui offenderò Noyer quindi ragazzi la partita è finita siamo un 2 a 0 Lello però ma si vabbè ma questo l'hai visto anche tu l'altro ok ma questo l'hai visto la punizione non può dire niente ma ok la punizione no no quella quella ok ma hai visto il 2 a 1 ma dai ma bruttissimo comunque noi ci vediamo alla prossima con il prossimo fruit funny fruit funny fruit funny e comunque con altri video bella ciao ciao